Tredicesima edizione del premio di saggistica Città delle Rose, edizione 2015, un'edizione bella, rinnovata, nuova, che ha due vincitori già designati. Sì, due vincitori sono stati già designati. Il nostro, come si ricordava, è un premio di saggistica, definito da Paolo Mieli lo scorso anno il premio di saggistica in assoluto, quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi. Due vincitori sono già stati individuati, sono quelli degli autori italiani e degli autori stranieri. Abbiamo precisamente Lamberto Maffei con Elogio della Lentezza per gli autori italiani e per gli autori stranieri Rachel Polonsky con La Lanterna di Molotov. Il nostro premio ha una sezione dedicata alle tematiche giovanili, quindi in questa sezione sono stati individuati altri tre autori. Tra questi non è stato ancora individuato il vincitore. Venerdì mattina, scusate, il 22, che è il giorno in cui si svolgerà questo premio, domattina, questi autori verranno presso il nostro Palazzo del Mare e si incontreranno con i ragazzi selezionati delle nostre scuole superiori e della biblioteca, 30 ragazzi in tutto. Avranno un confronto con questi autori e quindi faranno domande, si informeranno su tutto quello che riguarda questi testi e dopodiché voteranno. Va ricordato anche che il nostro premio prevede una menzione particolare per gli autori abruzzesi e abbiamo quest'anno una menzione particolare per William Di Marco con il suo testo scritti e Marco Tabellioni con il canto silenzioso. L'appuntamento è appunto per le tematiche giovanili domani mattina al Palazzo del Mare e poi alle ore 18 presso Villa Paris, che è una bellissima cornice dove quest'anno appunto si svolgeranno le operazioni di premiazioni. Quindi intervenite tutti, vi aspettiamo. Grazie.